Così come i miei compagni saranno contenti di vedere effettivamente che ci si sta creando una grande opportunità e speriamo che il corso che abbiamo pensato sia adatto e che vada tutto bene. Il corso deriva dal fatto che sempre giovani, innanzitutto, viene da uno studio che abbiamo svolto durante lo stage che abbiamo svolto con la dottoressa Mariani, il quale affermava che grazie all'utilizzo della tecnologia il decadimento cognitivo viene ridotto in maniera sostanziale.